Test del microfono Maono PM461 Dico 461 e non 461TR perché nonostante nell'annuncio riporti il modello 461TR Mi è arrivato il 461 a dette del produttore e lo stesso Anche se la dotazione all'interno della confezione è diversa da quella presente nelle altre recensioni Non viene fornito la spugnetta sul microfono Adesso sto registrando con il gain al 100% ed è l'unico modo che potete sentirmi forte e chiaro Perché io adesso imposto il gain al 50% e come potete sentirmi il volume è molto dimezzato Cioè è dimezzato di fatto Adesso mettiamo a un quarto Come ha fatto qualche altro tester nelle vecchie recensioni E come potete ascoltare mi sentite a difficoltà Quindi l'unico modo per registrare come si deve È impostarlo al 100% Qualità la state ascoltando Per me è no E come potete ascoltare mi sentite al 100%